Siamo a Unicop con la Presidente Valentina Suzzani e questa cooperativa sociale è nata nel 1986 se non sbaglio, ha avuto un'ultima grande soddisfazione nella scorsa settimana perché un articolo dedicato alla sua storia e a quello che sta combinando Unicop è finito sulla prima pagina del New York Times del primo di febbraio scorso. Presidente come mai siete finiti in prima pagina su New York Times e che effetto le ha fatto? Allora è innegabile che sia stata una grandissima soddisfazione perché Anziani e Bambini Insieme è un po' il nostro progetto bandiera, è un po' quello che rappresenta quello che noi siamo quindi sicuramente è stato molto bello e molto gratificante non solo per me ma è stato gratificante credo per tutti gli operatori che all'interno di questo servizio lavorano e gratificante per tutta la cooperativa. Anziani e Bambini Insieme è un progetto che ormai ha più di dieci anni perché è nato ormai con il piano strategico di Piacenza Vision 2020 ed è un progetto che noi come unico portiamo avanti in cui noi crediamo molto che ci rappresenta ma è un progetto dal nostro punto di vista di tutta la comunità piacentina perché perché è un progetto che non avremmo mai potuto realizzare da soli, è un progetto che è nato grazie alla collaborazione con il comune di Piacenza, la provincia che hanno indetto a suo tempo questo progetto di Piacenza Vision 2020, la fondazione di Piacenza e Vigevano, la camera di commercio e tanti altri, quindi è un progetto davvero che fa parte di questa comunità, non è solo il nostro, è un progetto della città e per la città. E che effetto le ha fatto vedersi in prima pagina? Eh beh cavoli, che bello, bellissimo, molto molto gratificante. Senta ci fa una fotografia di Unicop, oggi cosa fa Unicop? In quali settori operate e su che territorio? Allora Unicop è una cooperativa che oggi ha 400 operatori, quindi siamo in tanti, è una cooperativa grande per il territorio in cui lavora perché noi lavoriamo solo ed esclusivamente per scelta sul territorio di Piacenza e provincia. Undici milioni di fatturato, molti servizi gestiti, 40 servizi gestiti su tutta la provincia, da case di riposo, centri diurni per anziani, 14 milioni di infanzia, servizi di integrazione scolastica e servizi, un servizio residenziale per adulti con disabilità. Quindi è una cooperativa che lavora su anziani, bambini, disabili. Questi sono i tre settori su cui noi ogni giorno lavoriamo. E come stanno andando le cose parlando proprio di anziani, bambini e disabili? Perché da un lato abbiamo un aumento del numero delle persone, voglio dire, anziane, no? Cioè quindi abbiamo un trend demografico, una riduzione della natalità e quindi diciamo lì si lavora a ridurre, no? A diminuire i numeri e poi invece anche il dato sulla disabilità mi sembra che sia un dato che è in crescita, no? Certo. Per cui gli anziani, come sempre, sono un numero sostanzioso, nel senso che noi gestiamo strutture che ospitano molti anziani. Tenga conto che in tutta la cooperativa noi diamo servizi per circa 1200 ospiti, utenti, quindi dai bambini agli anziani. Ci fa qualche nome delle case di riposo, delle crane? Partiamo da quella di Anziani e Bambini Insieme, quindi Casa di Riposo del Faxal, Immacolata di Lourdes, Comunità Alloggio di Lucagnano, Comunità Alloggio di Ferriere, Centro di Urno della Besure, che è il Centro di Urno del Faxal. Questi sono i nostri grandi servizi. 14 nidi di infanzia che in realtà, probabilmente anche dopo il Covid, hanno visto un aumento di bambini. Pur essendoci un calo della natalità in Italia, i nostri servizi negli ultimi due anni sono aumentati come numeri. Anche i nidi che erano più piccoli, penso ad esempio al nido di Carpaneto, è un servizio che oggi ospita 28 bambini contro i 14 che ospitava prima, quindi ha raddoppiato, ma anche tanti altri nidi. Quindi i nostri nidi devo dire che viaggiano tutti a regime pieno. L'altra fetta molto importante, dove a Piacenza c'è un grande bisogno, è la fetta della disabilità. I disabili e le strutture che possono ospitare i disabili non sono tante. Poi le disabilità sono tutte diverse, quindi anche lì bisogna fare poi un discrimine. Comunque la disabilità è un settore che richiede i maggiori sforzi in questo momento e sono anche gli sbocchi, i progetti futuri di questa cooperativa. Senta, aprirei un attimo una parentesi su un tema che oggi chiunque fa impresa deve affrontare, quindi cooperativa SPA, voglio dire, al di là della forma societaria, ed è quello che oggi tutti lamentano, appunto dicevo che è la fatica di trovare personale qualificato. Così anche per voi, visto che voi usate soprattutto mando d'opera femminile, se non sbaglio, oltre il 90% delle persone. Ecco, immagino che abbiate anche molti soci barra addetti che non siano italiani, perché in questo settore c'è stata una grande espansione del lavoro, diciamo così, straniero. L'85% dei nostri operatori sono italiani, quindi abbiamo la stragrande maggioranza personale italiano. Poi sì, ci sono anche operatori ovviamente che arrivano da paesi esteri. Diciamo che è un grandissimo problema oggi il reperimento delle risorse umane. Perché? Perché purtroppo ci sono poche figure formate, tutte quelle che sono formate trovano lavoro immediatamente, parlo di OS, parlo di infermiere, parlo di educatori sui nidi e anche sui servizi di integrazione scolastica. Quindi il personale che noi cerchiamo è sempre tanto, anche perché su 400 operatori. Lei prima ha usato un termine che vorrei ci spiegasse meglio, che è quello di servizi di integrazione scolastica. Che cosa comprende questa definizione? Il servizio di integrazione scolastica sono quelle persone, gli appoggi all'interno delle scuole non sono gli insegnanti di sostegno, ma sono figure educative e o assistenziali che accompagnano il bambino durante le ore di scuola. Noi abbiamo personale... Quindi il bambino problematico, il bambino con disabilità. Noi abbiamo servizi all'interno delle scuole, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, anche nei nidi lo abbiamo però diciamo che il servizio parte dalla scuola dell'infanzia, e diciamo sono quelle figure che supportano l'insegnante di sostegno all'interno delle scuole. Ok. Senta, quindi diciamo che le prospettive di crescita sono spalmate, possiamo dire, sia per l'aumento dell'età media e quindi la necessità di avere più assistenza per gli anziani, sia questo dato di cui lei ha parlato, che è un po' in controtendenza, che comunque ritaglia anche sulla ipotesi dell'infanzia, dei ragazzi, dei giovani, degli spazi di crescita. E poi il lavoro sulla disabilità. Ma quali sono le criticità che oggi voi dovete affrontare e se dovesse tornare indietro che cosa non riferisce, dove aggiusterebbe il tiro, insomma, da presidente di Unicop? Allora, io non sono solita farmi autocritica sì, ma dire farei in modo diverso questo? No, perché se abbiamo deciso di fare alcune cose le abbiamo deciso perché in quel momento ci sembrava la scelta migliore. Quindi mi piace pensare al futuro e a pensarlo in maniera positiva. Questa cooperativa ha tanti progetti nel cassetto. Il primo è un progetto grande sulla disabilità, una nuova casa per i nostri centri di socio-reabilitativi residenziali con degli appartamenti per quello che si chiama il dopo di noi, quindi per quelle figure, per quelle persone che hanno i figli ancora a casa, disabili e che pensano al futuro quando loro non ci saranno più. Quindi noi abbiamo questo grande progetto nel cassetto che in realtà stiamo cercando di tirarlo fuori dal cassetto. Sono già un po' di anni che ci stiamo lavorando e speriamo che si concretizzi nel giro di poco tempo, pochi anni. È un progetto grande, è un progetto a nostro parere innovativo. Ci piacerebbe che diventasse il nuovo Anziani e Bambini Insieme. L'altro progetto grande che abbiamo nel cassetto è la digitalizzazione. Allora, io ho 40 anni, però credo che Unicop, così come tutte le varie realtà, per avere un futuro, debba diventare più smart, debba fare quel salto in avanti perché oggi, siamo nel 2023, oggi viaggia tutto molto veloce in maniera digitale. Ci stiamo lavorando su questo, il Consiglio di Amministrazione ha investito grandi risorse economiche. Quanto? Siamo nell'ordine quasi del migliaio di euro, ecco, quindi... Milione di euro? No, migliaio. Migliaio? Migliaio di euro, no, no, no. No, no, dico migliaio di euro, cosa... Siamo quasi a 100.000 euro come investimento, che ovviamente è spalmato negli anni. a breve verrà varata e verrà inaugurata una piattaforma digitale per i genitori dei bambini del nido e dallo smartphone loro potranno vedere le immagini del loro figlio al nido, potranno sapere cosa ha mangiato, quanto ha mangiato, potranno visualizzare tutti gli avvisi del servizio, insomma, potranno con un semplice clic accedere a tutto quello che è il mondo nido, quindi essere molto più vicini, molto più facili anche da, come si può dire, da essere visualizzati da parte dei genitori. È un modo anche per aiutarci nell'avvicinare i genitori al servizio, perché i genitori sono molto impegnati col lavoro, quindi ovviamente non hanno tempo per fermarsi a leggere un avviso o comunque questa parte... La carta, diciamo... La carta la abbandoniamo, stiamo cercando di abbandonare la carta anche, non so, nella domande di iscrizione, eccetera, sulla parte anziani il fascicolo sanitario digitale, quindi insomma c'è un'evoluzione molto forte su cui stiamo lavorando insieme a Brain Pharma, che è il nostro consulente informatico a cui noi ci appoggiamo, perché crediamo sia davvero quello il futuro, vuole andare tutto più facile. Lei sta dicendo queste cose anche perché, per l'interesse suo personale, perché lei è mamma di... è diventata mamma da cinque mesi e quindi tutto questo la vede... no, a parte le battute... Io sono contenta di poter usufruire di questi servizi, assolutamente... No, no, ma è molto importante perché poi, voglio dire, si progetta pensando a quello che gradiresti tu trovare nel tuo interlocutore... Noi lo diciamo sempre, ci porteresti tuo figlio, tua mamma, tuo papà in quel servizio... Se sì vuol dire che stiamo lavorando bene, se no vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa... Senta, ma un'ultima cosa, se direi, appunto, presidente ormai da quanti anni sono... Questo è il secondo anno del mio secondo mandato... Del suo secondo mandato, quindi siamo al quinto anno, cinque anni... Mamma da pochi mesi, appunto, come coincidia tutti questi impegni? Eh, questo glielo dico tra qualche mese, non lo so ancora... No, credo che ci sia necessaria molta organizzazione, tanti aiuti, io sono fortunata perché ho sia i miei genitori che i miei suoceri che possono aiutare, i nonni servono... I nonni sono assolutamente utili e quindi in questi primi mesi saranno di grande supporto, poi a settembre anche lui andrà al nido e loro rimarranno comunque un valido supporto. E come la mettiamo con le sue passioni, come per esempio quella per i viaggi? Tra poco vorremmo portarlo a fare il battesimo del volo, vorremmo andare al mare e vedere come reagisce all'aereo, ma la nostra idea è quella di viaggiare, perché io credo che si possa viaggiare anche con i bambini, assolutamente. E l'altra cosa che ci tengo a dire è che tutto sarà più facile perché credo che se ti piace fare quello che fai, comunque tutto viene, cioè tutto si riesce a fare. E io, cioè per me è unico per una seconda famiglia ormai, lavoro qua dal 2006 e quindi sono tanti anni che sono qua e quando torno qua sono sempre contenta nel venire a lavorare e credo che questo sia un valore aggiunto mio, ma è una cosa che cerchiamo di fare su tutti i nostri operatori, cioè per noi il valore aggiunto sono davvero le persone, perché i servizi possono essere belli finché si vuole, nuovi, all'avanguardia e tutto quanto, ma quello che fa i servizi sono le persone. E questo credo che unico debba andare molto fiera dei suoi operatori, perché i nostri servizi funzionano e tutto questo funziona grazie a loro e grazie a una cabina di regia che è in questi uffici che fa funzionare la macchina. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.